Accadde oggi! Via 29 Maggio è una strada del centro di Cortina che collega l'area della stazione a Corso Italia. Quella data ricorda proprio il passaggio del paese sotto la bandiera tricolore dopo quattro secoli di dominio sburgico, interrotti da una brevissima parentesi napoleonica all'inizio dell'Ottocento. La data chiave è il 29 maggio 1915. Sei giorni prima il Regno d'Italia ha dichiarato guerra all'impero austro-ungarico che ha piantato la sua bandiera in ampezzo nel 1511, strappando quel territorio alla Serenissima. Il 24 maggio le truppe italiane varcano il confine ad Acquabona. Il pomeriggio del 29, il ventitresimo reggimento della Brigata Como arriva al cuore del paese. In quei giorni si contano dalle 20 alle 30 mila divise italiane nel territorio. Vengono occupati gli uffici comunali e le poste, sequestrate gli alberghi, smantellata la dogana. Che cosa trovano gli italiani? Una popolazione che ha studiato su libri italiani stampate a Vienna, documenti ufficiali in italiano, un alto grado di alfabetizzazione, istituzioni irregoliere ben precedenti al periodo austro-ungarico, una forte identità ladina e uno sviluppo già orientato verso la situazione attuale. Infatti, sentendo parlare di una cessione di cortina all'Italia a seguito di trattativa diplomatica e temendo una situazione di instabilità, nell'aprile del 1915, parroco e capo comune scrivono al ministro degli esteri di Vienna per protestare contro il possibile cambio di confine. Come noto, si legge nella missiva, da circa 30 anni si sviluppò in ampezzo l'industria dei forestieri, la quale assorbì tutti i capitali mobili che la popolazione disponeva per investirli in questa industria. Purtroppo, in questo breve tempo, non fu possibile ammortizzare i capitali investiti. Ma che cos'è l'industria dei forestieri? Nient'altro che il turismo. A fine Ottocento, infatti, i nobili e l'alta borghesia di mezza Europa scoprono la conca come luogo di villeggiatura, tra loro anche il re del Belgio. E così, mentre nel vicino Cadore il turismo non era ancora decollato, sotto il dominio austriaco Cortina già prosperava.